Ciao ragazzi Grazie di essere qui con me oggi Oggi sarà un video molto speciale per me Per prima cosa perché vedete che farò un try-on Quindi vedete le mie fantasticissime notità modella inesistenti In più questo è un video sponsorizzato Perché l'azienda di quando vorrei vedere i prodotti Mi ha oltre che ho inviato gratuitamente i prodotti E ho anche deciso di darmi un compenso per mostrarveli Allora Il sito di cui vi parlerò oggi si chiama Zaful E mi ha inviato un bel po' di cosine Che sono contentissima di mostrarvi E vi lascio ovviamente tutti i link giù qui sotto Sono molto felice perché presto avremo altra attrezzatura Come ad esempio anche dei pannelli fonoassorbenti Perché magari i più sensibili di voi riusciranno a captare un po' di eco Soprattutto quando parlo così Perché c'è un po' la stanza vuota Quindi sì, sono molto contenta Spero siete contenti anche voi Di questa opportunità di migliorare ancora di più il canale Ovviamente il fatto che sia un video sponsorizzato Non vuol dire che le opinioni non siano assolutamente mie al 100% Quindi tutte le opinioni sono mie e personalissime Cominciamo subito Partirò dai prodotti che mi sono piaciuti di più Quindi il primo è una cosa che vi ho già fatto vedere su Instagram Ma anche in un video mi avete chiesto tutti dove le hai presi Quindi sono molto contenta Vi sia piaciuto E sto parlando di questi pennelli qui Adesso ne tiro fuori uno o due Ci faccio un po' di trigger E ve li mostro bene Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette Otto, nove Fatemi ricontare Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette Otto, nove, dieci Ok, dieci E sono tutti confezionati singolarmente Questi due sono i po' Quelli più grossini Come vedete Hanno questo corpo Tutto Sigrenato Bellissimo A cova di sirena E questo particolare qui Stupendo Questo nuovo di un oro rosa E qui sulla punta sono azzurri Meravigliosi Molto morbidi Ha un capello Molto molto morbidi Adesso andiamo a farci un po' di trigger Io l'ho presa apposta perché mi sembrano a parte belli Sì, volevo provare questo suono E poi Si abbiano anche un po' Mi piacciono le mie occhi Io sono tipo Galaxy Mi piacciono veramente tanto Ok Facciamo un po' Di Blighting sulle orecchie Allora Questi pennelli non costano veramente irrisorio Sono molto morbidi E ne ho provato uno E per il blush E mi è piaciuto Lo stand è bene Ovviamente non sono pennelli super professionali Sono per uso insomma Del trucco di tutti i giorni Ne ho aspettate per questo prezzo La qualità assurda Professionale Ovviamente Io guardate Ve li consiglio Anche solo perché sono Bellissimi E secondo me sono Adattissimi Anche solo a fare da Decorazione Per il vostro bagno Li mettete in un parattolo Tipo quelli di marmellata E secondo me sono Bellissimi Cioè proprio belli 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 Oppure nel vostro bagno Nella vostra postazione Trucco Sono bellissimi Cioè Guardate Troppo belli Troppo troppo belli Quindi Questi sono decisamente Uno dei miei prodotti preferiti Che mi sono arrivati Ok Ora facciamo un po' di Camera brushing Ok ok sicuramente li usarò spessissimo un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo sono questi occhiali sono arrivati confezionati in questo modo un po' più ordinato perché li ho rimessi dentro però sono arrivati confezionati bene e sia i pennelli che questi occhiali erano in questa busta qui quindi tutto bello, ho imballato bene gli occhiali sono fatti così a gatto con la montatura oro come fanno di modo oro molto grandi e vestono in questo modo guardate che io ho il viso molto picco come sto guardando allo specchio scusate e mi piacciono molto non sono neanche leggerissimi che mi sembrano comunque resistenti ecco mettiamola così costano una cipra reticola e sono bellini cioè comunque sono molto calini ma calini non so se li vedete praticamente hanno questa linea una linea qui dietro che dà proprio questa forma molto particolare comunque non danno per rende fastidio sono ovviamente non graduati quindi sono persone che non hanno problemi di vista o che hanno 0,50 come me e mi piacciono veramente tanto costavano anche molto poco quindi anche questi consigliatissimi molto carini veramente carinissimi 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 e vi lascio tutti i link appunto giù nell'info box se volete dare un occhietto anche al sito terza cosa preferite questo è il mio capo preferito in assoluto ed è bellissimo anzi bellissimo ed è questa gonna così a metà così l'altra metà adesso vi faccio vedere come sta indossata intanto parlo un po' vi faccio anche un po' di suoni comunque mi piace moltissimo intanto perché la cerniera e le borchie hanno veramente un tocco di un tocco veramente particolare la gonna è veramente carinissima e non ho credo di aver mai visto la cosa così in negozio è veramente molto bella un pezzo veramente bello 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 non sto scherzando e sono rimasta anche molto stupida dalla qualità vi farò vedere anche non so se state vedendo ora dei particolari della gonna è fatta veramente veramente bene adesso vi faccio vedere anche in video comunque è leggermente è a vita alta io ho preso la L e mi va bene dovete stare attenti con i capi in questo sito perché ogni capo ha le sue misure magari in un capo portate la L in un altro capo portate la S dovete sempre prendere le misure prendete le misure una volta e ci guardate perché in questo sito non ci sono cose solo di zafful ma anche di altre marche anche un rivenditore e ok adesso dovreste essere tornati a vedere appunto dovete stare attenti all'Italia dovete semplicemente misurarvi comunque l'adoro non è neanche troppo corta non fascia è bella perché si può portare sia in inverno che in estate perché essendo pelle così è bella sia senza collant che con i collant è veramente giuro fighissimo è un pezzo consigliatissimo e vedete cioè i particolari sono fatti veramente molto bene e costa veramente poco e veramente questa consigliatissima un dieci non so cosa dirvi sono rimasta veramente piacevolmente sorpresa e mi fa impazzire ok next un'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo e che però devo dire la verità non era così in foto è questa maglia adesso al contrario vi faccio vi faccio vedere il video in questo momento come vedete ha delle ha una diciamo è tessuto è un tessuto che ha delle righe verticali è un bianco panna non è un bianco puro panna molto è un bianco caldo è un bianco molto bello e come vedete ha queste particolarità sia sulle maniche sia sul colletto e sia sulla parte di sotto questi piccoli volant che secondo me sono veramente carinissimi io adoro i volant non so perché ma ho questa fissa questa a noi mi piace molto come vedete arriva a me arriva praticamente poco sotto l'ombelico quindi è molto adatto ad esempio con la gonna di prima oppure con i pantaloni a vita alta perché arriva giusto giusto praticamente dove finiscono i pantaloni a vita alta quindi ci sta veramente benissimo e con quello è perfetto per l'inferno perché è un bianco caldo meraviglioso secondo me allora in realtà mi piace molto così mi piacciono molto le maniche a tre quarti perché perché la rendono più particolare e mi piace anche molto l'altezza l'unica cosa è che nella foto non era così nella foto le maniche erano lunghe e anche tutta la maglia era comunque più lunga e non c'era il volant sotto che qui vedete c'è quindi diciamo che non sono stata fortunata però il capo non corrisponde profilettamente certo io ho preso l'elle senza guardare le taglie è una maglia molto elastica è un pullover anche pesantino cioè non è non è non è non è non è leggera ecco è molto carina però vedete che è molto aderente sarà che io le spalle larghe però insomma è una L va giusto bene a me io per darvi delle idee sulle mie misure sono un metro 70 e ho le spalle non mi ricordo quanto è però comunque sono molto larghe vedete quindi insomma l'altezza se siete più vasti di me questa maglia mi andrà un po' più lunga ovviamente comunque in ogni caso guardate sempre 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 le misure le lunghezze delle maniche la lunghezza della maglia io sono stata un po' pigra male malissimo erroraggio comunque questa maglia l'ho indossata già tipo sette volte da quando l'ho ricevuta e devo dire che è veramente versatile quindi io la consiglio semplicemente guardate dove vi arriverebbe però questi piccoli volant mi piacciono tantissimo quindi questo le do un bellotto le darei anche un po' di più però è diversa da come si rappresentava quindi poi ora vi mostro questo zainetto allora su quel sito hanno degli zainetti veramente molto carini a parte questo sono spettacolari e poi veramente super carino adesso vi metto una clip in cui ve lo faccio vedere indossato ecco insomma come sta sulla schiena e qui davanti vedete c'è anche la tasca adesso ve lo mostro bene qui davanti è vellutino nero ha la scritta love story non lo so e ha queste rose ricavate molto carine è piccolino come zaino lo zainetto per quando magari andate viaggiate quindi vi serve uno zainetto piccolo per tenere giusto una bottiglietta d'acqua il portafoglio i documenti insomma e il cibo è molto comodo è molto carino è veramente super carino e dietro come sentirete il rumore il rumore è indicato con questo è appunto di qui si finta bella si bella poi si allaggia così si allaggia si si porta così questa prima parte appunto è sempre in pelle tra parentesi fa un suono stupendo questa borsa è veramente un trigger fantastico anche il tapping meravigliosa ok la toschina davanti è piccolina vedete ma questo è giarniere con oro dentro ho un sacco di carte è grosso così vedete ha una taschina ha una taschina interna qui ha anche qui un posto per tenere delle cose non chiuso questa volta con la cerniera non ha altre tasche è molto semplice però a me invece tantissimo non lo so è super carino e ce ne sono molti di questo tipo ok adesso vi lascio al piccolo video qui ancora una volta vi faccio vedere le mie doti fantastiche da modella una meraviglia non ho ordinato cose aderenti o appunto troppo faciate o troppo scollate cosa del genere non perché di solito non li porti anche la donna che porti chissà cosa però in generale non volevo mostrare troppo del mio corpo perché dopo c'è sempre gente che fraintende io assolutamente non voglio questo passiamo ai tuoi cappotti adesso vi faccio vedere appunto il piccolo filmato in cui lo indosso questo fantasia principe di calles dei colori del marone scuro beige e poi ha delle righe perpendicolari verticali azzurre e orizzontali arancio è molto molto carina è perfetta sia per diciamo l'ultimo periodo dell'inverno ma soprattutto per l'autunno e per la primavera perché non è super pesante però la fantasia è veramente carina e come vedete qui ho sbagliato taglia perché mi è un po' l'archina anche se in ogni caso l'ho già indossata e mi piace così perché comunque porto molte volte delle cose un po' larghe però anche qui state molto attenti con le taglie anche questo costava niente veramente una cosa imparazzante quasi da quanto costava poco e allora i bottoni in realtà il bottone è fatto è molto semplice e ha anche due tasche fatte in questo modo è fatto molto bene devo dire è fatto bene molto carino appunto solo mi sta un pochino largo perché vi consiglio di prenderli di prendere questo cappotto su internet piuttosto che in un negozio perché su internet lo pagate molto meno e rispetto al prossimo capo che vi mostrerò questa fantasia è una fantasia che andrà di moda massimo per altri due anni non di più quindi è un cappotto che non vi derrete tutta la vita e quindi diciamo che è più un cappotto da dire mi tolgo lo spizio di avere un cappotto con questa con questa fantasia per questo vi consiglio di prenderli magari sui siti su questi siti perché appunto li pagate di meno vi togliete lo spizio di avere un cappotto un po' più particolare con una fantasia che però non durerà tanto invece il negozio vi consiglio di prendere comunque di spenderci di più di prendere dei cappotti più semplici che appunto vi durano sicuramente anni e anni però secondo me prendere questi tipi di cappotti in negozio e spenderci anche 100 euro non ha troppo senso perché non dureranno molto non saranno molto di moda non si sa quanto terrà questa moda di questa fantasia quindi appunto vi consiglio di prenderli qui anche perché vi dico la verità è fatto molto bene certo non è per inverni rigidi questo no però è fatto bene diciamo che anche fino a metà dicembre si può portare poi si può iniziare a portare a fine febbraio infatti questo l'ho portato un giorno di sole perché se lo muove l'odore d'altro canto mi largo quindi ci sto anche un bagliore bello pesante sotto secondo cappotto è questo qui vi lascio sempre il piccolo video allora questo è il tipico cappotto color cammello cammello ha un tessuto morbido è piacevole al tatto in realtà ha un colore cammello però è leggermente più sull'aranciato ed è il tipico cappotto insomma che prima o poi chiunque deve vendere all'armadio non so perché questo veramente non smetterò mai di andare di moda questo colore questo tipo di cappotto mai quindi anche questo costa molto poco le tasche fatte in questo modo è abbastanza ampia con dentro il tessuto in questo modo questo quello che c'è anche dentro la giacca e ha questi bottoni così oddio non lo vedete qui non ne manca uno perché ce n'è uno anche dall'altra farda è fatto così il cappotto quindi qui uno due tre e qui vedete uno due e tre è fatto così anche questo è fatto bene molto carino forse vi consiglio un po' più l'altro appunto per la questione della moda invece sicuramente un cappotto color cammello lo indosserete sempre quindi potete anche spenderci un po' di più però insomma se volete togliervi uno spizio dei cappotti ve li consiglio tanto perché comunque sono fatti bene e e sì insomma non spendete tanto come in negozio ultime due cose sono le due cose che proprio no nel senso che ho ho sbagliato io uno e ho sbagliato perché non allora un capo che se vi faccio vedere allora di questa a parte che ho sbagliato il modello però non lo so la taglia mi sembra veramente da bambina è un crop top ve lo giuro non so se vedete è cortissima e anche le maniche mi arrivano mi arrivano al comito e insomma questo invece è pensato per essere sul polso quindi sì mi sembra molto una taglia da proprio bimba e il bello è che ho preso la L quindi per questo vi dico guardate molto bene le taglie perché questo cioè avessi guardato bene le taglie non avrei mai preso perché appunto mi sarei accorta che non era assolutamente una L adatta a me quindi questo mi sa che può lo regalare a qualcuno perché mi scoccio a buttarlo pari anche bellino però è veramente piccolo c'è striminzito e altra cosa che mi sta veramente piccola ma che questa veramente mi dispiace che non mi vada perché l'ho vista tantissimo in giro ed è il maglione di quelli con le perle vedete allora questo è fatto per essere corto quindi il mio problema non è che è corto il mio problema è che mi sta stretto questo maglione è fatto per essere largo per essere portato largo si vede che non era a parte che comunque non è adatto al mio fisico questo perché sottolinea sono le spalle larghe però a parte tutto non lo so mi piaceva tantissimo il modello e ho voluto provare però mi sta proprio questa è una L ho preso tutto L e mi sta proprio stretto cioè mi sta proprio come se fosse un top aderente però in sé è molto carino infatti questo credo che lo darò non lo so ho mia cucina piccola non saprei adesso però lo do qualcuno perché in realtà è carino lo do nella carita se non lo so perché è carino però non mi va proprio cioè mi entra ma mi sta in modo si vede che non è la mia taglia non ha senso è fatto anche bene vedete perché tutte queste perle così fatte bene quindi un po' di più è veramente carino è veramente carino non è carino perché proprio non è della mia taglia purtroppo e quindi ancora una volta vi ripeto che è importantissimo cercare la propria taglia ok questo show and tell piccolo dry on finisce qui io spero che il video vi sia piaciuto spero che vi siete rilassati se volete se volete appunto cliccate cliccate nei link soprattutto le cose che vi ho consigliato perché mi piacciono molto ve li proprio ve li consiglio leggete giù in descrizione anche per tutte le informazioni sulla spedizione e appunto ancora un po' più di particolari sulle taglie mi ripropesso di non toccarle le orecchie ok adesso finiamo con un po' di brushing finiamo con un po' di brushing in camera sono veramente contenta che vi piaccia questa ultima parte di tutti i miei video in cui vi auguro la buonanotte 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 sogni d'oro è anche una delle mie parti preferite dei video presto farò altri rollplay e ne approfitto finché c'è ancora freddo perché sono andata in un po' freddo cioè invernale sono molto ispirata per i rollplay ultimamente e presto 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 mi arriveranno le luci perché come potete vedere non c'è una grande luce ora ok rollendo ok rollendo la facita di pennello sul viso e intanto chiudere gli occhi chiudere gli occhi e riposo e riposo e riposati che te lo meriti mi raccomando riposati prendi sempre quella di te stessa, te stessa, sempre la cosa più importante prendi sempre un momento per te che sia un video che sia un piccolo trattamento di bellezza che sia un bagno, una tozza motor ogni tanto ci sta che sia cucinarti qualcosa di buono di un po' complicato però dobbiamo coccolarci ogni tanto ok allora vi mando un bacione buonanotte 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 che ti spero buonanotte buonanotte vecchio buonanotte 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 Grazie a tutti.